Fratelli carissimi, continuamente noi facciamo riti di purificazione, ma la nostra vita non cambia, perché non cambia la nostra mentalità, il nostro modo di vivere. Nella lettura delle ore di oggi ci rinvito a uscire da Babilonia. Popolo mio è caduta, è caduta da Babilonia, che era grande. Uscite, popolo mio, da Babilonia, per non associarvi ai suoi peccati e non ricevere parte dei suoi fragelli. Uscire da Babilonia, uscire da una mentalità pagana in cui noi ci troviamo, da un modo di sentire mondano in cui ci troviamo, da un modo di agire come gli altri uomini di questo mondo. Non siamo come gli altri uomini di questo mondo, i quali ci sono i nostri fratelli, perché anche essi chiamati a divenire corpo mistico di Cristo. Ma non possiamo vivere come gli altri uomini, sentirci come gli altri uomini. Noi siamo morti al mondo, siamo morti al peccato. Noi in quanto uomini siamo dei morti. È Cristo che ci ha dato una vita nuova e dobbiamo vivere secondo questa vita nuova in Cristo. Per cui il nostro modo di vivere non può più essere il modo di vivere di Babilonia, del mondo in cui viviamo, perverso e pervertitore. Ma siamo cittadini del cielo, concittadini dei santi, familiari di Dio. La nostra vita è la vita del figlio di Dio in noi. In Lui siamo diventati figli di Dio e il codice di comportamento non è quello scritto dagli uomini, ma il codice di comportamento è quello adottato dal figlio di Dio, il codice di Cristo, quello che vige nel corpo di Cristo, nello stato di Cristo, nel regno di Cristo. non possiamo vivere secondo il codice di un altro regno, qual è il regno del mondo, ma secondo il codice del regno di Cristo. Formarci un'altra mentalità, quella di Cristo, un altro sentire, quello di quello di Cristo, perché saremo giudicati secondo il codice di Cristo, non secondo il codice del mondo. La nostra vita deve mutare radicalmente nella mentalità, vedere in altra maniera, con gli occhi di Dio, misurare le cose con gli occhi di Dio, sentire col cuore di Dio, agire in forza di un'operazione messa dentro di noi, l'operazione del suo santo spirito. C'è tutto da cambiare, per cui non basta così un atto di penitenza, una spustatina di acqua, un labile proposito di migliorare, no, qui bisogna andare a un cambiamento radicale, altrimenti perderemo tutti. La Madonna Fatima, oggi 13 maggio, dice convertitevi, 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 che significa cambiate, 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 cambiare mentalità, la testa, cambiare la testa, cambiare il cuore, cambiare il modo di vivere, non possiamo più vivere come vivevamo prima, come vivono gli altri, che differenza c'è tra noi e gli altri nel modo di vivere, nessuna differenza. differenza tra noi e i popoli che non credono in Cristo, tra un cinese, un giapponese e un italiano, nessuna differenza, né nella mentalità, né nel modo di esprimersi. Siamo di questo mondo e dobbiamo uscire da questo mondo, noi che siamo i concittadini del cielo, i familiari di Dio, i morti a questo mondo, i rinati a vita nuova, finché non acquisiamo questa coscienza di essere popolo nuovo, popolo sacerdotale, gente eletta. Siamo ancora come prima, non abbiamo mutato nulla, né siamo mutati noi, né muteremo il mondo, invece siamo chiamati a mutare noi e a mutare il mondo, perché il cristiano è l'anima del mondo, è il fermento del mondo. Una donna ha preso tre staie di ferina e vi ha messo il lievito, è incominciata a impastare, finché tutta la massa fu fermentata, la Madonna è questa madre di cui parla il Vangelo, che prende tre staie di farina nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, tutta la massa umana, e mette il fermento della grazia, il fermento di Cristo, il fermento dello Spirito e la impasta, perché tutta si rinnovi, ma questo fermento che siamo noi, siamo un fermento inattivo. Fratelli e sorelle, oggi la Madonna ci chiama a un cambiamento di vita, convertitevi, cale Babilonia, è destinata a ferire Babilonia, la grande prostituta che ha sedotto tutta la terra, tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua sprenata prostituzione, il re della terra ci sono prostituiti con essa e i mercanti della terra ci sono arricchiti del suo lusso sprenato, e allora uscite, uscite popolo mio da Babilonia, per non associarli ai suoi peccati e non ricevere parte dei suoi fratelli, perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Guai, guai immensa città, Babilonia è possente città, in un'ora sola è giunta la tua condanna. Guai, guai immensa città, del cui lusso arricchirono quante veve le nave sul mare. E ora, popolo mio, esci da Babilonia, esci da Babilonia per non essere coinvolta nella sua rovina. Fratelli e sorelle, questo è il grido che viene da Dio oggi per bocca di Maria. Cambiare, 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 la spruzzatina d'acqua non fa niente. Cambiare testa, cambiare testa, cambiare il cuore, cambiare il modo di vivere radicalmente. Essere diversi dagli altri, diversi dagli altri. Siamo figli del regno, figli della luce, in mezzo ai figli della tenebre. Quale comunanza c'è tra Cristo e Velial, tra i figli della luce e i figli della tenebre? Eppure noi ci mimetizziamo, ci confondiamo, non ci distinguiamo più. Noi, popoli di giuste, col popolo dei peccatori, chiediamo al Signore questa mattina che qualcuna di queste parole scende in profondità e che questa parola pronunciata da Maria, convertetevi, questa parola pronunciata da Gesù, cambiate, cambiate, questa parola pronunciata dai Santi. liberatevi dalla vostra mentalità, dal vecchio uomo e rivestite l'uomo nuovo, creato secondo giustizia e verità. questo richiama vivere il Vangelo del Signore, risuoni nel nostro cuore e cambi radicalmente la nostra vita. O Signore, noi leghiamo a questo rito dell'acqua, questo rito che viene da te, viene da Maria nostra madre. serva questo rito a farci riflettere, a recepire la tua parola e che questa parola produca il suo frutto. altrimenti saremo coinvolti nel grande giudizio di Dio con Babilonia. Babilonia cade e noi di Babilonia cadremo insieme con lei. O Dio eterno e onnipotente, tu hai voluto che permettere l'acqua elemento di purificazione e sorgente di vita. anche l'anima nostra veniste lavata e ricevesse il dono della vita eterna. Benedici quest'acqua perché diventi segno della tua protezione. Rinnova in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia. Rinnovi in noi il santo battesimo che ha creato in noi la vita nuova perché vogliamo vivere secondo i tuoi dettami. Te lo domandiamo per Cristo, nostro Signore. Benedici, Signore, questo sale che condisca la nostra vita, ci dia il senno e la saggezza e il sapore cristiano. Benedici questo sale, Signore. Tu ordinasti al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale. Ti preghiamo risana con la sapienza divina l'acqua della nostra vita e rendela saporosa. fa che mediante questo dubbio segno di purificazione siamo riferati dall'insidio del maligno che domina in questo mondo e gira in questo mondo e custoditi dalla presenza del tuo Santo Spirito possiamo camminare compatti verso la vita eterna. Te lo domandiamo per Cristo, nostro Signore. Amén. Signore, sono qui ai tuoi piedi. Signore, voglio amare te. Signore, sono qui ai tuoi piedi. Signore, sono qui ai tuoi piedi. Signore, voglio amare te. Signore, voglio amare te. nominare te. Enche tuoi piedi. Signore, voglio amare te. Signore, voglio amare te. Signore, sono pieno in piedi, Signore, credo il dono a te. Accoglimi, perdonami, la Tua grazia evoco su di me. Signore, liberami, guariscimi, e in te il suor tu per sempre io vivrò. O Padre che dell'agnello immolato sulla croce fai scaturire i sorgenti dell'acqua viva, purifica il tuo popolo, Signore. O Cristo che rinnovi la giovinezza della Chiesa nella macro dell'acqua con la parola della vita, purifica il tuo popolo, Signore. O Spirito che dalle acque del Battesimo ci fai riemergere creature nuove, purifica il tuo popolo, Signore. O Dio che raduni la tua Chiesa, spose il corpo del Signore, benedici il tuo popolo, era viva in noi per mezzo di quest'acqua, il gioioso ricordo del Santo Battesimo e la grazia della Prima Pasqua. Per Cristo nostro Signore. Amen. Un popolo redento, Annunciate le grandi opere del Signore che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua immirabile luce. Alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, regni sempre operante in noi il mistero della pasta, perché nati a nuova vita nel Battesimo, con la tua protezione possiamo portare molto frutto e giungere alla pienezza della gioia eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e viva regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario l'arca dell'Alleanza. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. era incinta e gridava per le dolie e il travaglio del parto. E apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso, con sette teste e dieci corna, e sulle teste sette diademi. La sua cosa trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorare il bambino appena nato. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna, invece, fuggì nel deserto. Allora udì una gran voce nel cielo che diceva Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo. Parola di Dio Grazie a Dio Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne. Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne. Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne. E benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra. Benedetta sei tu, Maria, Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne. Il coraggio che ti ha sostenuta non cadrà dal cuore dei uomini. Essi ricorderanno per sempre la potenza del Signore. Benedetta sei tu, Maria, tra tutte le donne. Il Signore dà esito felice alla tua opera, a tua perenne esaltazione. Con prontezza tu hai esposto la vita per sollevare il tuo popolo dall'umiliazione e dall'abbattimento. Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne. Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli, Dio 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 Signore e conoscerete la verità. Appreso possesso nel tuo regno è il Signore, il nostro Dio con il potente. Alleluia, 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 Alleluia. Il Signore sia con voi, e con il tuo Spirito, dal Vangelo secondo Giovanni, come il Signore. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, se conoscete me, conoscerete anche il Padre, fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo, Signore mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo, chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me, ma il Padre che in me compie le sue opere. Credetemi, io sono nel Padre e il Padre è in me, se non altro credetelo per le opere stesse. In verità, in verità, vi dico, anche chi crede in me compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre. Qualunque cosa chiederete nel nome mio, lo farò, perché il Padre sia glorificato nel figlio. Se mi chiederete qualcosa nel nome mio, io la farò. Parola del Signore Alleluia, 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 Alleluia. Occorre spostare urgentemente una macchina. Qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, io la farò. E questa mattina noi chiediamo di comprendere i segni dei tempi, di guardare attorno e comprendere i segni del Signore. Il cristiano che non sa leggere i segni dei tempi può incorrere nel direggio di Gesù, che faceva ai farisei e ai suoi interlocutori, voi conoscete i segni dei tempi. Quando fa caldo o quando il sole è rosso di sera e dite che c'è tempesta o c'è montempo, sapete conoscere i segni meteorologici, i segni del cielo, ma non conoscete i segni misteriose e i segni dei cieli, i segni dei cieli, i segni di Dio. Chiediamo al Signore di comprendere i segni dei tempi, i segni di Dio. Ecco una donna davanti ai nostri occhi, vestita di sole, ed ecco un dragone che cerca di devorare questa donna e il figlio partorito della donna. L'enorme drago che combatte contro la donna vestita di sole è la lotta tra il demonio e la Chiesa, sposa di Cristo. E la lotta tra i figli di Maria, i figli della donna, i figli nati dal sangue del primo genito che partorisce la donna e la potenza della tenebra e il dragone con i suoi angeli di belle. E' una lotta che dura nei tempi e che tuttora ha un momento di rinviscenza. dobbiamo riconoscere questo segno dei tempi la rinviscenza del male la rinviscenza del dragone contro i figli della donna la lotta che si fa più cruenta tra il bene e il male tra i figli della luce e i figli della tenebra. Diceva bene Gesù quando gridava agli ipocriti ai parisei voi avete per padre il diavolo e dice bene Giovanni che in questo mondo ci sono i figli di Dio e i figli del maligno i figli del diavolo l'umanità si distingue in due parti i figli di Dio e i figli del diavolo e c'è lotta tra il mondo e i figli di Dio i discepoli di Cristo dobbiamo essere compresi di questa lotta non possiamo stare con gli occhi chiusi e dobbiamo scegliere la parte dove stare a metà non si può rimanere o dall'una o dall'altra parte chi non è con me è contro di me o sposiamo la verità di Cristo e siamo dalla parte di Cristo o altrimenti sposiamo la menzogna e siamo dalla parte del maligno il quale è falsario fin dall'inizio e omicida io posto davanti a te la vita e la morte il bene e il male la luce e le tenebre scegli tu se scegli la vita vivrai se scegli la morte starai tra i morti se scegli il bene starai con i buoni se scegli il male starai con i malaggi è tempo di scelta ognuno prenda la sua posizione come in cielo ci furono gli angeli buoni che si schierarono con Michele e gli angeli cattivi che si schierarono con l'Ugibaro così anche nel mondo c'è questo schieramento dobbiamo orientarci e deciderci a mezza strada saremo il rifiuto e del mondo e di Cristo saremo nulla saremo polverizzati non ci vorrà neanche il diavolo e neanche Cristo saremo polvere dalla strada il vento ti sverderà come pula come polvere chiediamo al Signore la luce per decidere la volontà per decidere e dobbiamo cambiare vita ve lo dicevo poc'anzi nella liturgia penitenziale non ci inuriamo dobbiamo cambiare vita non possiamo vivere alla maniera mondana i comandamenti di Dio vigono sempre vigono sempre il comandamento dell'amore non ci è posto nel regno di Dio ce lo dice la scrittura per coloro che rubano per i maldicenti per i maghi per gli impostori per gli impuri per coloro che profano nel talamo è scritto nelle scritture da questo diceva già l'autore della lettera di Ognete un autore del secondo secolo da questo noi ci distinguiamo dagli altri che abbiamo tutti in comune eccetto il talamo il talamo per noi è sacro io vorrei richiamare nel nome di Maria nostra madre alla purezza dei costumi alla purezza dei rapporti matrimoniali alla purezza dei rapporti tra i fidanzati tra uomini e donne per i cristiani non è lecito oltreggiare il sesto comandamento e il nono comandamento che avrà guardato una donna con desiderio ha già commesso adulterio e chi usa l'uomo che usa la donna come oggetto di piacere il marito che usa la sua moglie come oggetto di piacere ha commesso adulterio perché i rapporti sono i rapporti umani tra due persone uno non può essere oggetto sono due soggetti che celebrano un sacramento quando esudiscono ma noi non abbiamo compreso queste abbiamo profanato l'altare di Dio l'altare domestico l'altare della nostra vita ditela a tutti questa è la verità e lo proclamo oggi nel nome di Maria nostra madre la pura la santa l'immacolata dice il Signore non parlare male del tuo prossimo e non ascoltare il sussurrone chi parla male del suo prossimo è impeccato non può accostarsi al corpo di Cristo perché l'ede con i provvedenti il corpo del Signore mangia il Cristo con i suoi denti e lo dilania ne possiamo ascoltare il sussurrone colui che spalla del proprio fratello perché commette lo stesso peccato di chi parla Dio strapparà le orecchie la lingua di colore che ledano Cristo nel proprio fratello non possiamo noi direneare il corpo del Signore ascoltando parole con il prossimo dobbiamo avere il coraggio quando uno ti parla male del tuo fratello di troncare e dire non puoi parlare male del mio fratello perché non puoi parlare male di Cristo se noi prestiamo ascolto a chi borbora a chi lede l'onore a chi maggiulla il Cristo nel proprio fratello commette peccato più grave di chi parla perché dà modo ad un altro di maggiullare con i denti il Cristo consente nel peccato del proprio fratello e si macchia nel peccato del proprio fratello quando uno ti parla male del fratello deve avere il coraggio di levargli la parola qui non si parla di troncare io sono con Cristo e devi troncare questo discorso chi non ascolta queste parole è impeccato e chi parla male del prossimo è impeccato e chi sembra discorsi dei fratelli commette il peccato di abominio dice il Signore nelle scritture sei sono i peccati che odia il Signore sei ma il settimo lo ha in abominio i sei peccati sono cominciando cominciamo tutti chi sparge sangue innocente ma c'è un altro più grave quello che ha in abominio il Signore chi semina discordia tra i fratelli e il peccato abominevole che Dio molla e che ci elimina dal Regno di Dio di quanti peccati non abbiamo coscienza perché non abbiamo cambiato testa e cambiato cuore siamo ancora pagani come diceva Paolo la lingua ci serve per dire le parole di Dio per parlare Dio o parlare di Dio e sulla nostra lingua deve risonare la triade sacrosanta cioè ciò che è bello ciò che è buono ciò che è vero tutto ciò che esce dalla lingua e non è bello non è buono non è vero è peccato il nostro lecchio che è il primo organo nel nuovo Regno di Dio che viene aperto nel santo battesimo con l'effetà serve per ascoltare la parola di Dio la parola che dà la vita non serve per ascoltare il demonio o le parole degli uomini che danno la morte questa è verità questo è il Vangelo non rubare dice il Signore noi rubiamo un po' tutti ci sono tante forme di rubare manca l'onestà tra i figli degli uomini o rubiamo la stiva al fratello o rubiamo l'onore al fratello o rubiamo l'amore al fratello o rubiamo la roba al fratello siamo tutti lei cioè lei di questo comandamento che viene imprante e così ti dica di tutti gli altri sacramenti di tutti gli altri comandamenti i sacramenti che riceviamo male e i comandamenti che non osserviamo come ci confessiamo noi superficialmente quel sacramenti che dovrebbe rinnovarci non ci rinnova diciamo quattro peccatucci e rimaniamo quelli che eravamo abbiamo raccontato a confessore qualche cosa ma non siamo andati in profondità abbiamo ricevuto così superficialmente i sacramenti della riconciliazione e e qui se l'abbiamo fatta dell'eucaristia come l'abbiamo ricevuta l'eucaristia ci ha cambiato se l'eucaristia non ci cambia se noi non siamo quelli che esumiamo l'eucaristia non è fatta in seppetto in noi che ne diciamo di tante persone che mangiano ogni giorno l'eucaristia e restano sempre uguali come prima segno che l'eucaristia non viene ricevuta con frutto non c'è l'eucaristia del sacramento quando quel sacramento non produce la morte o non produce la malattia come succedeva a Corinto per questo invece a voi ci sono molti ammalati e parecchi muoiono prematurnamente perché non distingue il corpo del Signore mangia del corpo del Signore come di qualunque altro pare cari Corinzi succede questo anche a voi tanti di voi siete ammalati tanti di voi muoiono cari Corinzi per abuso dell'eucaristia e dove sono i comandamenti di Dio amerai il Signore di tuo con tutta la mente tutto il cuore e tutte le forze amerai il prossimo tuo come te stesso dove è il mio giorno dice il Signore andate a divertirvi nel mio giorno prendete per voi il mio giorno che è la domenica lo prendete per voi per divertirvi quello è il giorno quello è il giorno mio non è il giorno vostro avete sei giorni per lavorare ma quello è il mio giorno serve per santificare il mio nome serve per istruire la legge di Dio quello è il mio giorno quello è il mio giorno che mi avete rubato e dove è l'onore che voi prestate al padre e alla madre per questo vi ammalate perché non rispettate il padre e la madre e non avete lunga vita sulla terra e quella è la vita della vostra famiglia chi domina la vostra famiglia è la fede è la luce di Cristo oppure sono entrati gli emissari del drago l'invernale qual è la stampa che leggete qual è la televisione che vedete non vi accorgete che le vostre pareti domestiche sono inquinate sono impestate non chiamate i seggiordoni per benedire quando attraverso la televisione voi continuamente infestate l'ambiente quando i vostri pensieri i vostri costumi non sono corretti queste cose vi dice il Signore e allora fratelli e sorelle preghiamo a Maria nostra madre oggi 13 maggio perché apparisca nel santuario nostro lei che è l'arca dell'alleanza apparisca nelle nostre famiglie questo santuario apparisca nella nostra società l'arca dell'alleanza rivolga ancora questa madre vestita di sole con le 12 stelle sul capo facciamo festa a Maria introduciamo la nostra vita schieriamoci con lei combattiamo con lei la grande battaglia contro il nemico che avanza il nemico che è immerso nel piacere e vuole immerserci nel piacere il nemico dell'avere e ci immergi nell'avere il nemico che vuole il nostro successo mondano e ci trascina la morte il nemico delle tre grandi concupiscenze colui che ha le tre maschere con cui ci seduce camminiamo con Dio all'insegna di Maria nostra madre schieriamoci con lei con lei e combattiamo con lei la grande battaglia per vincere perché la vittoria è nostra e per trionfare un giorno quando i cieli si apriranno e i figli dell'uomo verrà per giudicare i vive e i morti e metterà i buoni a destra e i cattivi a sinistra maledera i cattivi che saranno sprovondati dall'inferno con gli angeli svelli e trarrà con sé i buoni in cielo dicendo venite benedetto del padre mio a possedere lei e allora si concluderà la storia del rena ed isterà l'eternità senza storia amore e siamo la nostra preghiera universale preghiamo il buon Dio che ci ha la man di buona che ci dia tanta luce e tanta forza preghiamo per noi tutti i malati nel corpo e nello spirito preghiamo per tutti quelli i quali si raccomandano a questa comunità di orante signore signore ti presentiamo tutte le altre persone che hanno deposto in questi cestini e ti preghiamo così generalmente per la nostra patria per l'Italia signore ti chiediamo che l'amore ritorne tra gli uomini tra gli italiani ritorno nell'amministrazione della giustizia è scritto che la verità partorisce odio quando si fa verità si fa scattare l'odio a meno che non si osservi la regola evangelica veritate incaritate facentes quando si fa verità nell'amore allora la verità rende liberi ma quando si fa la verità non nell'amore la verità partorisce odio tra le classi tra la gente tra accusati e accusatori l'unico modo perché la verità che bisogna farla non partorisce odio e distruzione e fare alla maniera evangelica come dice Paolo veritate in caritate facentes fate le verità nella carità e siccome non c'è la carità tra gli uomini siccome non si osservano le leggi della carità nella giustizia il fare giustizia comporta odio tra le classi tra categorie tra uomini e uomini chiediamo al Signore innanzitutto la carità perché anche la carità informe la giustizia che deve fare verità e allora ci sarà la libertà e non l'odio per questo o Signore o Signore noi ti supplichiamo vogliamo chiederti o Signore questa mattina di venire in mezzo a noi con la potenza del tuo Spirito che Spirito di luce e di verità abbiamo la testa chinata abbiamo il cuore contrito perché abbiamo sentito nostra queste parole che Tu oggi ci hai detto e non possiamo Signore che queste parole scivilo scivolano su di noi ma vogliamo Signore davvero offrirti la malattia del cuore la malattia più grande che il peccato la nostra debolezza e vogliamo questa mattina o Signore davvero alzare il capo per tendere o Signore e ricevere da Te la forza di andare avanti e di cambiare vita non vogliamo Signore lasciarci mettere il gioco estraneo degli infedeli di cui Tu parli nella lettera di Paolo ma vogliamo Signore convertirci nella mentalità e nel cuore per questo Signore che dai la vita vieni oggi adesso in mezzo a noi con la forza che ci fa liberi con la forza che ci dà di cambiare vita vieni vieni noi ti invochiamo Signore invochiamo la Tua potenza quella potenza che rivestì la Vergine Maria dall'alto e incarnò il verbo della vita noi invochiamo Te o Signore che dai la vita vieni quest'oggi in mezzo a noi passa o Signore con potenza scendi in mezzo a noi Signore perché possiamo convertirci a Te che sei l'unico nostro Dio Dio Santo Spirito c'è vissi Vino Vieni Santo Spirito Spirito Vino Grazie a tutti. Usa i nostri corsi, guida lì, riempirci d'amore, Spirito. Invochiamolo tutti insieme, scendi su di noi, Spirito Santo. Scendi su di noi, scendi su di noi, scendi su di noi. Scendi su di noi, scendi su di noi. Scendi su di noi, scendi su di noi, scendi su di noi. Amore, Spirito Santo. Uscite da Babilonia, dice il Signore. Non toccate più niente di puro, Duceretto, Signore. Aiutaci, oh Signore. Vogliamo cantare dentro di noi, vogliamo cantare a Te. Liberaci dalla nostra debolezza. Signore, gridiamo a Te, ascolta il nostro grido. La malattia del peccato è più grave di ogni tumore, di ogni cancro, di ogni infermità. Te lo offriamo, Signore. Libera, oh Signore, i prigionieri. Vieni con potenza oggi in mezzo a noi, Signore. Vieni con potenza oggi in mezzo a noi, scendi su di noi, scendi su di noi. Vieni con potenza oggi in mezzo a noi, scendi su di noi, scendi su di noi, scendi su di noi. Vieni con potenza oggi in mezzo a noi, scendi su di noi, scendi su di noi, scendi su di noi, scendi su di noi. Gloria e onore a te, Signore. Gloria a te. Dio dell'universo. Lode e gloria e onore a te, luce degli uomini. Signore, lode e gloria a te, oh Signore, che dai la vita. Signore, lo hai detto. Signore, alla predicazione di Giona, il popolo di Ninive si convertì, ma questa generazione non si converte, eppure c'è mese a voi uno più di Giona. Signore, tu ci offri ancora una volta l'esempio delle levitie, e si fece la penitenza, si convertirono, digiunarono, e Dio, clemente e misericordioso, usò loro in ducenza, e furono salvi. Signore, ti chiediamo che noi, popolo di Ninive, siamo salvi per la tua misericordia, ma ti chiediamo che la tua parola, la parola del tuo verbo, scende dentro di noi, ci dia luce e vita. Signore, signore, Giovanni, a te lets, oh Signore, consigui muita qui sitta per le sapi, e luce e soroare è la tua persona, che lo starò il tuo verbo, scende dentro di Gesù. Signore, la parola del tuo verbo, scende dentro della mia, La mia voce spalla a te, mio Dio, Signor. Ascolta il mio grido dell'angoscia, o il tuo capo e il tuo nome. E il mio cuore tu sarai. Amén. Erano tutti affaticati nel remare. Avevano il vento contrario. Ma Gesù andò al loro incontro camminando sul mare. Essi vedendola camminare sul mare pensarono che un fantasma incominciarono a grirare. Ma egli subito rivolse loro alla parola e disse «Coraggio, sono io, non temetevi». Quindi salì con loro sulla barca e il vento cessò. Ed erano stupiti perché non avevano compreso ancora il fatto dei panni, perché i loro cuori erano ingoriti. E' parola del Signore in Marco. Signore Gesù, noi remiamo a fatica nel mare della vita. Ma tu sei con noi che cammini sulle acque. Crediamo di vedere un fantasma, ma sei tu in persona che cammini con noi. Tu cammini sulle acque perché il tuo corpo è leggero. Noi remiamo a fatica nel mare agitato. Ma tu ci fai coraggio e ci dici «Coraggio, sono io, non temete». Io cammino con voi, anzi scendo dalla vostra barca, nella barca di ciascuno di voi. Non stupitevi, sono io, comprendete il mio linguaggio. Io vi ho dato il mio pane questa mattina. «O Signore Gesù, scendi dalla barca di ciascuno di noi, nella barca della nostra vita privata e familiare. Noi ti riceviamo, Signore. Tu ci hai nutrito con il tuo pane. Fa' che i nostri occhi si aprano e ti riconoscano. e che la nostra vita continui con te, che sei nella nostra barca». Alleluia. 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 Abba Padre, ricordati di noi, guardaci con amore, Abba Padre, tuo figlio è in mezzo a noi, Abba Padre, viviamo a te, dacci il tuo figlio. A te mi accorgerò, sono tuo figlio, Signore, sono tuo figlio, Signore, guariscimi, Signore, guariscimi dalla mia infamità, tu sei mio Padre, guariscimi. Oh Padre, oh Padre, oh Padre, oh Padre. Guariscimi, Signore, Abba, 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 padre, 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 tu sei Padre, apri il tuo cuore, apri le braccia, dammi ancora il tuo figlio, guarisci mio Gesù, guarisci mio Signore guarisci mio Padre, Padre guarisci, sono tuo figlio nel tuo figlio Gesù, lui è sano, io sono malato, guarisci questo tuo figlio malato, Gesù guarisci Abba Padre, Abba Padre, Abba, Abba, Abba Abba Padre, Diyamati Abba Padre, Abba Padre, ti presentiamo la mente, il cuore, l'anima e il corpo Abba Padre, siamo i tuoi figli, siamo i tuoi figli, languenti in questo mondo Abba Padre, hai mandato il tuo figlio per guarirci, Abba Padre, vediamo a te Abba Padre, Abba Padre Abba Padre, apri il tuo cuore, misteri cordioso, Abba Padre, Abba Padre Abba Padre, apri il tuo figlio, noi ti vediamo, ti amiamo, ti sentiamo, Abba Padre, abba Padre, pace il tuo figlio Abba Padre, che questo inmenso amor, si amo, ti 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 amo Abba, 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 Abba. Grazie Padre perché ci ha dato il tuo figlio. Grazie Padre perché lui ci è redente. Grazie Padre perché lui ci nutre. Grazie Padre perché lui ci guarisce. Grazie Padre perché lui ci libera. Grazie Padre, Abba, Abba, Abba. Grazie Padre.